È disponibile un nuovo Vade Mecum per il soccorso alle persone con autismo, un supporto formativo e informativo che dà indicazioni concrete, consigli pratici e un kit di immagini per la comunicazione visiva, che aiutano il soccorritore a relazionarsi e a comunicare con le persone con autismo in situazioni di emergenza. Il Vade Mecum è stato realizzato dalla Fondazione Bambini Autismo Ollus e dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pordenone ed è stato presentato ieri, 28 novembre 2017, in Prefettura Pordenone. Va a completare un percorso che vede la Fondazione Bambini Autismo in rete, sia con la stessa Prefettura, con la quale è stato firmato nel 2013 un disciplinare di collaborazione, che prevede tra l'altro la formazione delle forze dell'ordine in tema di autismo, sia con l'ospedale di Pordenone, con il quale invece è stato firmato nel 2012 un protocollo per l'accoglienza ospedaliera di pazienti con autismo. Si tratta quindi di un altro tassello per l'inclusione di cittadini con autismo, utile non solo ai vigili del fuoco, ma a chiunque si trovi a riflettere sul tema emergenza e disabilità, dalle famiglie alle scuole a chi gestisce ambienti pubblici. Il documento sarà breve e disponibile nel sito della Fondazione Bambini Autismo e nel sito del Ministero dell'Interno.